Un buon pomeriggio a tutti i laiati con voi ad accompagnarvi per le prossime quattro ore da questa cornice magnifica anche per chi ci sta guardando sul canale 6.7 del digitale terrestre che appunto firma Magic Mico Sierra Milano City qua a Milano se siete nei dintorni mi raccomando passate che è sicuramente una bella esperienza tante famiglie è bello vederle qua dal vetro siete su R101 con tanta musica ovviamente ad accompagnarti per tutto il pomeriggio per tutta la giornata subito c'è Britney Spears, oops I did it again